A Salisbury, capitale della Rhodesia del Sud, oggi lotta libera. Incontro brevissimo fra Merio e Smitey. Smitey urlando chi me lo fa fare, abbandona. Ma ecco il numero più atteso. Sono alle prese Fred Coatz con calzoncini di leopardo e Willie Crooney. Fred Coatz cerca di stringere i tempi e nella foga usa colpi proibiti. Interviene l'arbitro, ma la gliene incoglie. Willie Crooney è in evidente difficoltà. Si pente ora di non avere seguito i consigli del padre che voleva avviarlo alla professione di allevatore di Canarini. Il pubblico decide di intervenire nella dotta contesa e la zuffa diviene generale. Un italiano presente in sala commosso ha dichiarato Tutto questo mi ricorda un tram romano in un'ora di punta.